Sono più di 49 mesi che non si riescono a rinnovare i contratti nazionali del settore del pulimento, della ristorazione collettiva in particolare. Perché sta avvenendo questo? Non perché abbiamo chiesto aumenti salariali spropositati. Ci siamo mantenuti proprio nello stretto necessario. Ciò che le aziende non vogliono sottoscrivere è riconfermare i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori. Con la scusa di dover risparmiare cercano di abbassare queste tutele. Il settore pubblico paga contratti salati, compreso il costo del personale, alle imprese. Le imprese risparmiano sulla pelle dei lavoratori e sulla pelle dei cittadini. Questa è la verità e per questa ragione noi protestiamo. Qual è il clima che si vive all'interno delle aziende? I lavoratori sono stanchi e stressati perché, come diceva il collega, loro sono sottoposti a cambi di appalto frequenti. Abbiamo appalti grandi come questo, la ASL, che è comunque una scadenza triennale per cui il lavoratore ogni 2, 3, 4 anni è costretto a rivedere la propria condizione lavorativa. La clausola di salvaguardia rende l'occupazione garantita ma neanche la qualità dell'occupazione. Quindi noi spessissimo ci troviamo a dover difendere anche il salario. Sono oltre un milione e mezzo in Italia che attendono questo rinnovo contrattuale che noi riteniamo debba assolutamente in questo momento essere confermato. Di fatti vengono definiti lavoratori invisibili perché comunque lavorano nei momenti in cui nessuno li vede e garantisce sia esso per quanto riguarda l'igiene degli ambienti dove altri lavoratori poi durante la giornata svolgono le proprie attività e sia per quanto riguarda le attività che siano essi ospedalieri o scolastiche o di imprese pubbliche o private che comunque servono a garantire quel minimo di mantenimento di diritto sia per se stessi che per altri lavoratori. Dobbiamo tener conto che sono tutti lavoratori part time che lavorano due, tre, quattro ore al giorno e molto spesso le imprese cercano e tentano di fare più riprese lavorative da una, due a tre riprese lavorative.